Grazie a tutti. Per casualità già ce n'era stato uno qualche tempo fa che fu però poi risultare un suicidio, ci fu poi un altro ragazzo che morì però un mese di distanza dall'incidente corso sulla tramvia, quello di ieri invece una morte accidentale in Viale Nenni nel comune di Firenze sulla tratta naturalmente che porta da Scandicci al centro del capoluogo toscano, un uomo di 70 anni che è rimasto ferito e poi nella notte è ispirato. Allora vediamo tutti i dettagli nel servizio di Chiara Elci. Non ce l'ha fatta l'uomo di 70 anni investito giovedì 22 ottobre da un convoglio della tramvia in Viale Nenni a Firenze. L'anziano era stato soccorso del sanitario del 118 e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dove è deceduto nella notte. È tuttavia in corso di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle ore 18 che ha visto da subito impegnata sul posto la pulizia municipale per i primi rilievi. Secondo una testimonianza l'uomo forse per distrazione avrebbe attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali in un punto non consentito senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. L'autista del mezzo in stato di shock è stato portato all'ospedale di Torregalli mentre la tramvia ha subito in seguito al terribile incidente un blocco di 20 minuti. Quel signore è apparso all'improvviso avrebbe detto il conducente all'ispettore della pulizia municipale. Toccherà adesso agli investigatori ricostruire l'esatta dinamica del fatto aiutandosi con le riprese delle telecamere di sorveglianza. E anche di questo parleremo questa sera alle ore 19 a Telegram sarà ospite il sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Parleremo anche di questo primo decesso sulla tramvia. Primo decesso come ricordavo prima è occasionale. Intanto cambiamo argomento, parliamo ancora, torniamo sul tema delle vaccinazioni per il meningococco C, vaccinazioni che vanno avanti a tappeto in tutta la regione. Questa mattina l'assessore alla sanità della regione toscana Stefania Saccardi ha voluto dare anche il buon esempio mettendoci in qualche modo la faccia e andando lei stessa a vaccinarsi. Poi a margine della vaccinazione ha parlato anche con i giornalisti proprio dell'importanza di questo ciclo di prevenzione nei confronti di questa malattia che mette in Toscana diverse vittime ogni anno. Sentiamo Saccardi. Un po' pallida, ha fatto male? No, no, per niente. Non l'ho nemmeno sentito. È davvero una cosa per niente dolorosa, molto semplice che davvero consiglio di fare a tutti. Sicuramente entro la fascia d'età dei 45 anni. Il vaccino è gratuito, lo ricordo, e quindi insomma davvero molto meglio fare il vaccino che correre rischi. Non c'è nessun problema, anche a Firenze ci siamo attrezzati perché questo avvenga in tempi molto rapidi rispetto alla richiesta di fare il vaccino. Quindi si perde pochissimo tempo e si fa una cosa che è sicuramente una garanzia per la salute di tutti. Come sta andando la campagna sulla vaccinazione dopo gli appelli delle ultime settimane? Direi un po' meglio. Le persone hanno capito, stanno cominciando a capire che è importante fare il vaccino. C'è ancora chi continua a sostenere che è una cosa da non fare, che può far male, che ci sono delle controindicazioni, ma non è così. La dimostrazione è che io stamani sono venuta a farmi il vaccino e quindi davvero credo che sia meglio per sé e per la salute anche degli altri. Intanto però c'è anche un'altra malattia da scongiurare, soprattutto nella zona di Prato. Stiamo parlando della Deng che continua a fare paura anche perché ci sono stati registrati due nuovi casi di contagio e infatti per questo il Comune di Prato insieme all'ASL provvederanno alla disinfestazione di Viale Ferraris, Via Meucci e Via Righi in Prato, zone dove si sono ammalate due persone. La zona appunto è quella di competenza dell'ASL 4 dove si sono registrati due nuovi casi di Deng. Il Comune ricorda ai residenti di tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio della disinfestazione e nelle ore anche immediatamente successive. I sintomi di questa malattia, lo ricordiamo, sono dolori articolari acuti, febbre alte. Il contagio è causato dalla zanzara tigre infetta che trasporta l'agente patogeno. Per questo viene fatta la disinfestazione per eliminare gli insetti. Per curare la malattia un intervento medico veloce è fondamentale per evitare il rischio vita. La malattia se non curata prontamente può causare febbre, cefalee, dolori e portare in gravi casi a shock circolatorio e quindi successivamente anche alla morte. Torniamo però su Saccardi perché oltre naturalmente a rinnovare l'appello per la vaccinazione contro la meningite le è stato domandato anche di questi dati che parlano del buco di bilancio della sanità toscana insomma tra le ultime cinque regioni per bilanci un buco da quasi 60 milioni da ripianare entro il prossimo anno e naturalmente è stato chiesto un parere al diretto interessato quindi l'assessore regionale Saccardi. Sentiamo. Guardi, da tempo la regione toscana ha utilizzato questa modalità di versamento anche per spingere le aziende a comportarsi nel modo più virtuoso. cioè venivano e vengono in una prima tranche assegnate risorse minori rispetto a quelle in realtà aspettanti alla fine dell'anno anche per invitare le aziende a mettere in atto, a porre in atto comportamenti virtuosi. Se hanno nella disponibilità, nell'immediatezza, minori risorse noi pensiamo, abbiamo sempre pensato che questo potesse spingere anche verso una gestione più rigorosa dei conti pubblici delle aziende e quindi insomma a me pare invece uno strumento importante, mi dispiace che Agenas non l'abbia capito non abbia letto forse in modo corretto i dati, però noi riteniamo che questa sia una modalità virtuosa che invita le aziende a risparmiare e a cercare di razionalizzare i conti pubblici e aiuta la regione comunque a controllare i conti dell'azienda. Però ecco, in teoria un ospedale potrebbe così fare un buco enorme, una domanda, fare un buco enorme e voi lo ripianate comunque, cioè qual è il limite di fronte al quale la regione si ferma? Ce ne accorgiamo in questo modo. In questo modo ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo tempestivamente. E' più facile a mio parere con questo sistema per la regione avere un quadro preciso dei conti che riguardano le aziende. Prego. No, no, dicevo che a mio parere questo è un modo più virtuoso e più attento di gestire le risorse piuttosto che assegnare alle aziende un budget che comunque non impedirebbe alle aziende medesime di fare il buco se ce ne fosse, se lo volessero fare comunque insomma. Torniamo a parlare di cronaca e torniamo sul territorio di Prato perché in un circolo, un circolo ricattivo di via Bovio è stata sventata un'attività che in pratica gestiva un giro di prostituzione, di baby prostitute cinesi. Naturalmente la retata è stata fatta dalla polizia, sono stati anche arrestati i due uomini che la gestivano, un uomo e una donna cinesi accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ma anche di spaccio di droga. La notizia riportata agli onori di cronaca da Giorgio Bernardini del Corriere Fiorentino con il quale ci collegheremo tra un attimo per capire i dettagli di questa operazione. Intanto però il resoconto di quello che è successo nel servizio di Giovanni Luca Valea. Ragazze cinesi costrette a consumare droga e rapporto sessuale in compagnia di clienti, anche giovanissimi. Si alimentava così a Prato e in via Bovio il mercato della prostituzione, al circolo Hi Hao Gong Wan, un club gestito da una coppia di imprenditori cinesi. I due, Dai Quan di 28 anni e Sun Yung Saia di 33, detta Emma, sono stati arrestati. Entrambi ospitavano negli appartamenti che avevano a disposizione le ragazze che poi costringivano a prostituirsi. Dall'articolo apparso ieri sul Corriere Fiorentino a firma di Giorgio Bernardini si evince, tra le altre cose, come l'uomo sia già al carcere della dogaia mentre per la donna sussissa ancora l'obbligo degli arresti domiciliari dal momento che si trova l'anno mese di gravidanza. L'accusa per i gestori del circolo, immediatamente sequestrato, è ad ogni modo chiara. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre che spaccio di droga. La droga, appunto, ce n'era di tutti i tipi, dall'exasio all'anfetamina, passando per marijuana e hashish. Ne sono state rinvenute quantità significative, infatti, nascoste tra le intercapelli delle pareti o nei sacchi delle aspirapolveri del circolo. Il club Hi Hao Gong Wan era nel mirino della polizia da diversi mesi. Ad estare più di un sospetto, dando così il via alle indagini, erano state le parole di una giovane donna cinese costretta a prostituirsi, che, dopo un'analitica con i gestori del locale, aveva denunciato tutto alle forze dell'ordine. Tra i ragazzi del circolo c'erano anche ragazzi italiani, elemento, questo, di assoluta novità, dal momento che è del tutto differente, la clientela che rifornisce abitualmente il mercato della prostituzione cinese low cost. L'operazione arriva a pochi giorni dal servizio di strisciola notizia, che aveva messo in risalto il degradante fenomeno della prostituzione cinese a Prato, con donne giovani e meno giovani che già durante il giorno affolano, tra le altre, le strade delle stazioni e quelle di Acenti al centro. Allora, ci colleghiamo con Giorgio Bernardini, l'autore dell'articolo apparso sul Corriere Fiorentino. Intanto ti do il benvenuto. Ciao Giorgio, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, questa vicenda di Prato, insomma, riporta le luci alla ribalta della cronaca, una situazione pratese di cui si è parlato spesso in questo caso, però un vero e proprio circolo di baby prostituzione cinese. Quali sono i dettagli, insomma, di questa scoperta da parte della polizia di questa retata? Sì, la cosa particolare è questa, che non si tratta del solito giro di prostituzione, cioè la notizia è statuta qui, nel fatto che non si tratta né di un centro massaggi, mascherato, come siamo abituati a vedere, né della prostituzione, che pure striscia la notizia qualche giorno fa, lunedì sera, aveva portato nuovamente gli onori delle cronache nazionali, ovvero quella in strada che viene esercitata a low cost, mentre si tratta di un vero e proprio circolo mascherato, dove però le ragazze erano molto giovani e dove i clienti erano anche italiani, italiani giovani. Una cosa del tutto particolare è nuova, diversa, appunto, il giro della prostituzione pratese. Cioè, forse c'è anche un aggiornamento da parte della malavita cinese rispetto alla domanda, se vogliamo, del mercato della trasgressione. Senti, Giorgio, tra l'altro, insomma, oltre alla prostituzione erano invenute anche diversi tipi di droga e in grandi quantità, insomma, per dare un servizio completo, diciamo così, ai clienti che arrivavano. Sì, una cosa veramente incredibile. Cioè, i clienti venivano riforniti, è stato appurato anche dalle immagini che sono state registrate dalla telecamera interna del locale, venivano riforniti contemporaneamente con la droga che preferivano, fra quelle leggere o quelle pesanti. Ovviamente, i clienti cinesi preferiscono la chetamina, mentre i clienti italiani vanno su droghe più classiche o comunque droghe leggere. E, appunto, contemporaneamente anche la ragazza che li avrebbe dovuti soddisfare. Cioè, era un tutt'uno compreso, droga e sesso insieme. E quindi sono state registrate, grazie anche all'unità cinofila di Firenze e della Polizia, grosse quantità di droga nascosta. Senti, Giorgio, un'ultima cosa, perché nel caso, insomma, di questa scoperta, in qualche modo da parte delle forze dell'ordine, perché ogni tanto si legge appunto direttate che vengono fatte, in questo caso anche grazie a una segnalazione fatta da una che era una prostituta che lavorava in questo circolo. Insomma, sono importanti che poi ci siano pareri diretti o testimonianze dirette di chi ci sta dentro per scoprire questo giro affari, che se no spesso rimane sommerso e è anche difficile che venga fuori. Hai assolutamente ragione. Il motivo principale per il quale molti di questi punti di trasmissione non vengono purtroppo scovati è proprio questo. Io sono stato sul posto anche ieri e ho chiesto ai vicini che in realtà hanno un atteggiamento sia a quelli che lavorano accanto sia a quelli che abitano lì vicino, in una zona che peraltro è molto residenziale della città. E questi sostanzialmente sono testimoni di un fatto che sono per scontato. Dicono, ma noi quello che succede lì dentro, dentro il circolo cinesi non lo vogliamo sapere, eccetera, eccetera. Invece in realtà queste denunce, come tu dici giustamente, portano alla luce cose importanti. Non sono sicuro che la ragazza che ha denunciato abbia fatto la prostituta perché gliel'hanno chiesto e lei si è ribellata ed è stata picchiata. Forse per questo è andata a denunciare. Però sostanzialmente hai colto del segno. Se non c'è una denuncia anche da parte dell'interno di questi piccoli circoli di malavita, purtroppo è difficile raggiungere anche dei risultati contro la criminalità. Va bene, allora grazie Giorgio Bernardini anche per il suo contributo. ma con queste importanti inchieste. Grazie per essere stato con me. Grazie a voi. E noi continuiamo parlando, sempre rimastendo su Prato in qualche modo perché è finita in manette la cosiddetta gang della mannaia. Tre uomini di origine cinese sono stati arrestati ieri con l'accusa di aver aggredito a giugno un connazionale dopo una lite per motivi di lavoro. L'aggressione risale al 6 giugno scorso per l'esattezza. I carabinieri sono riusciti a risalere ai malviventi solo ieri dopo mesi di indagini. Il GIP di Prato ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre uomini di origine cinese accusati di tentato omicidio per aver aggredito un loro connazionale armati di mannaia e coltello al termine di una lite scoppiata appunto a giugno per motivi di lavoro. Cambiamo argomento. Torniamo a parlare anche di migranti. Lo sappiamo, i numeri ingentissimi distribuiti dalla Prefettura di Firenze su tutto il territorio, dalle varie prefetture in realtà di tutto il paese arrivano anche a Pontassieve e non mancano però le proteste soprattutto dai gruppi di estrema destra. Vediamo. Anche Pontassieve si attrezza per l'emergenza migranti. Sono infatti 33 i profughi ospitati dal Comune, arrivati quasi tutti con gli sbarchi dell'estate appena conclusa. Grazie al progetto nazionale SPRAR sono state accolte 10 persone nel capoluogo mentre altre 15 sono nella frazione di Acone, 5 persone a doccia e una famiglia di 3 persone a Santa Brigida. Sono inoltre partiti dei lavori di ristrutturazione di un immobile comunale abbandonato in modo da adibirlo ad abitazione temporanea con un intervento simile attuato a doccia per i locali dell'ex seggio elettorale entrambi col contributo economico del gestore dell'accoglienza individuato dalla Prefettura di Firenze. Il Comune si è così inserito nel progetto proponendo due strutture da ristrutturare per destinare all'accoglienza, strutture che poi, una volta terminato il progetto, rimarranno a disposizione del Comune. La gestione dell'emergenza è stata cevolata dai cittadini che si sono subiti adofferati per integrare nuovi arrivati nella comunità. Gli ospitati potranno rendersi disponibili per opere di volontariato con le varie associazioni del territorio e grazie al ruolo di coordinamento dell'amministrazione che sta gestendo i contatti con le varie realtà. L'assessore alla solidarietà internazionale, Jacopo Bencini, ha commentato il tutto dicendo che la risposta del territorio, grazie al contributo del Comune e dei privati cittadini, secondo il modello toscano dell'accoglienza diffusa, è forte e soddisfacente sia per i numeri accolti sia per l'alto livello di rispetto della persona mantenuto. Dopo le manifestazioni da parte degli esponenti di Casa G. Valdisieve, il Comune risponde dando numeri e loghi dell'accoglienza, andando così a trattare un tema estremamente delicato e sensibile che non può essere affrontato con la superficialità del tifo da stadio. E sempre sul tema dei migranti, Sesto Fiorentino si attrezza, in realtà si è già attrezzata da tempo per far svolgere anche piccoli lavori socialmente utili ai migranti che risiedono sul territorio. Ci sono anche novità perché i prossimi attività svolte da queste persone saranno anche la consegna dei passi a domicilio e la spesa per le persone anziane. Sono stati infatti siglati nuovi accordi con l'Auser e l'Associazione Comunale Anziani di Sesto Fiorentino che potranno in qualche modo usufruire di quello che è il volontariato da parte di queste persone. I 30 migranti che sono oggi ospiti temporaneamente nel presidio allestito in via Fratti a Sesto Fiorentino, gestito dalla cooperativa Il Cenacolo, verranno coinvolti però anche in piccoli lavori di manutenzione delle aree verdi, come già stanno facendo gli altri 45 migranti che vivono nella sede dell'ex associazionismo sestese, gestito attualmente dalla Caritas. Sono tutti lavori di pubblica utilità, detto il commissario straordinario del Comune di Sesto Fiorentino, Antonio Lucio Garufi, che aiuteranno i richiedenti asilo ad integrarsi e allo stesso tempo potenzieranno i servizi fondamentali per la comunità, a vantaggio soprattutto di persone che vivono sole o in situazione di forte disagio sociale ed economico. Il Comune di Sesto Fiorentino ha concluso, continua il suo progetto di accoglienza virtuoso, che sta dando ottimi risultati, grazie soprattutto alle associazioni di volontariato, sempre collaborative e presenti sul territorio. Cambiamo argomento, parliamo ancora di cronaca, perché c'è stata una nuova effrazione in una casa, a Fucecchio terrorizzate la madre e la figlia. Nel cuore della notte tre malviventi sono entrate nell'abitazione di due donne e le hanno malmenate e poi rapinate. Un altro colpo era stato messo a segno appena due giorni fa. Nella notte tra mercoledì e giovedì, quindi due giorni fa, madre e figlia rispettivamente 73 e 40 anni che vivono in via Boito a Fucecchio, mentre dormivano all'interno della loro abitazione, sono state svegliate dai ladri che le hanno minacciati fino a costringerle ad aprire la cassaforte. La figlia si è presa anche un ceffone. La cassetta di sicurezza è poi risultata vuota e i ladri sono fuggiti dunque soltanto con 300 euro, soldi che le donne avevano nelle borse. L'episodio ha molti punti in comune, anche con altre due rapine, avvenute nelle notti scorse a Monte Calvoli e a Castelnuovo, Val di Cecina. E quindi di fatto la polizia sta indagando su questi casi, cercando anche di metterli in relazione. Tra l'altro un tema questo, che in questi giorni è agli onori della cronaca nazionale, perché se ne parla per quello che è stato un caso di legittima difesa, con un rapinatore che era entrato in una casa ed è morto successivamente colpito a morte da un proiettile del proprietario di casa. E quindi ritorna forte il tema della sicurezza privata e naturalmente di quello che è considerato legittima difesa o meno. Poi c'è naturalmente connesso anche il tema delle armi, tra l'altro tema spesso cavalcato in qualche modo dalla Lega Nord, che ci pone particolare attenzione. Cambiamo argomento nuovamente, cominciamo a parlare anche dei progetti che fanno bella Firenze in qualche modo e ce ne sono tanti, soprattutto in questo periodo. Partiamo in particolare dalla Basilica di San Lorenzo, perché ci sono nuovi progetti per rendere onore a una delle chiese più belle di Firenze. Vediamo. I progetti per la facciata mai finita della Basilica di San Lorenzo a Firenze raccolti in un unico volume, La Forza del Mito. L'obiettivo è far conoscere gli oltre 50 progetti realizzati nei secoli per la facciata mancante della prima cattedrale fiorentina, da Michelangelo al concorso del 1900. La Basilica fu patrocinata dai medici nel 1421, luogo deputato per le loro sepolture. Il catalogo è stato presentato dal Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni, dalla Presidente della Fondazione Casa Bonarroti, Pina Ragionieri, assieme allo storico dell'architettura, Fabio Mangone. Pagine importantissime della storia di Firenze, anche se purtroppo pagine che non trovano la concretizzazione nell'avere nella Basilica di San Lorenzo quella facciata che tanti avevano desiderato, auspicato, su cui si erano scimentati, ma che rimane su foglie di carta. Si tratta del catalogo dell'omonima mostra in corso al Museo di Casa Bonarroti, il cui scopo è mostrare e far conoscere i progetti elaborati a seguito del concorso bandito da Papa Leone X dei Medici nel dicembre del 1516, a cui parteciparono Michelangelo, Raffaello, Giuliano da Sangallo. Leone X diete al Bonarroti il compito di progettare una facciata nel 1518, ma l'opera non fu mai portata a termine. Poi nel volume anche i progetti realizzati per l'elettrice Palatina, Anna Maria Luisa De Medici, quelli del Ponciatti del 1837 e anche i progetti relativi al concorso di idee del 1900. Non soltanto arte e cultura, sappiamo tra l'altro in questi giorni che verrà inaugurato il nuovo Museo dell'Opera del Duomo, un capolavoro di bellezza che soprattutto per naturalmente i cimeli contenuti all'interno, insomma, quelli che sono veri e propri esempi dell'arte medievale, della migliore, insomma, e Firenze ne racchiude la maggiore quantità e la maggiore collezione, quindi un invito insomma a tutti i fiorentini e non solo, naturalmente, ad andare a visitare questo bellissimo museo. Intanto però parliamo anche di musica, parliamo di musica rock e non si può non legare questo genere a un contest, il Rock Contest che viene organizzato ogni anno a Firenze e che parte proprio questa sera. Sarà Luciano Ligabue il testimonial della 27esima edizione del Rock Contest che si aprirà venerdì 23 ottobre sul palco del Tender Club a Firenze, una manifestazione organizzata da Controradio in partnership col Comune e la Regione e che è diventata l'unico vero antidoto ai talent show, una vetrina privilegiata per diffondere la musica indie, psichedelica, sperimentale e ovviamente rock in un periodo in cui i tradizionali canali di distribuzione sono saltati. I caratteristici interlocutori dei gruppi vengono meno, le etichette indipendenti a volte chiedono i soldi ai gruppi per far stampare il disco, cioè è tutto saltato, quindi è fondamentale che il gruppo impari ad autopromuoversi. E in questo senso una mano la darà lo stesso Ligabue che permetterà alla band vincitrice di registrare per una settimana nel suo zoo studio. Vincere però quest'anno sarà particolarmente difficile visto che per questa edizione gli aspiranti e i partecipanti sono raddoppiati. Perché oltre mille sono state le candidature per salire sul palco del rock contest su cui saliranno soltanto i 30 gruppi o artisti individuali selezionati. Segno di un fermento culturale che sta contagiando sia la città che la Toscana in generale e che il Comune di Firenze ha deciso di incentivare semplificando le procedure per chi vuole organizzare un piccolo concerto serale. Sotto le 200 persone entro le ore 24 è possibile da casa richiedere un permesso di pubblico spettacolo che di fatto è un'autocertificazione quindi non c'è più la trafila dei permessi per la piccola cretti per la piccola produzione. Il 20 e 27 novembre il tender ospiterà le semifinali del rock contest mentre per la finale l'appuntamento è alla vlog sabato 5 dicembre. Allora parliamo anche della stazione Leopolda della Leopolda la convention di Matteo Renzi che si tiene naturalmente la stazione Leopolda di Firenze ufficialmente dunque sarà dall'11 al 13 dicembre lo ha notato proprio il premier nella sua E-News che viene mandata mensilmente insomma tramite canali elettronici non cambiano solo gli orari ha scritto Matteo Renzi si inizia venerdì verso cena si finisce domenica a pranzo chi vuole partecipare sia fisicamente che suggerendo argomenti ha scritto stimoli o spunti può utilizzare la casella leopolda chiocciola matteorenzi punto it sono curioso di leggere le vostre proposte ha scritto perché la Leopolda come sempre appartiene a chi ha idee e voglia di condividerle naturalmente quest'anno Matteo Renzi ci arriverà forte anche delle riforme appena approvate in Parlamento vi ricordo anche domani alle 14 l'appuntamento con la Tara il programma condotto da Giacomo Guerrini registrato al Mercato Centrale di Firenze saranno ospiti il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Basilichi e il presidente della Casa Lettrice della Mandragora editore Mario Curia e naturalmente si farà il punto economico su Firenze ma non solo anche aperto naturalmente a tutta la regione siamo quasi allo sport perché ieri c'è stata una partita importante la Fiorentina che ha visto uno stop per Paolo Sosa e per i suoi uomini in Europa League contro il Lake Poznan una sconfitta per 2-1 ne parleremo tra pochissimo con Fabio Ferri intanto però vediamo qual è la situazione del traffico in Toscana una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info in studio Giuditta Boeti sull'autostrada A1 Firenze-Roma attenzione per un veicolo fermo sulla carreggiata tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna informiamo che dalle ore 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiusa per lavori di pavimentazione l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna attenzione sulla A12 Genova-Rosignano per controllo della velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano sull'Aurelia riduzione di carreggiata per cantiere tra Cecina Nord e Cecina Sud in direzione Sud via Firenze per i lavori alla linea 2 della tramvia sono iniziati gli interventi propedeutici per la modifica dell'incrocio tra via Lori e via Garfagnana previsti di vieti di sosta e restringimenti di carreggiata ed è tutto buon viaggio e prima di parlare di calcio giocato purtroppo dobbiamo dare una notizia di cronaca perché proprio un tifoso della Fiorentina ieri di ritorno dallo stadio è morto in un incidente in un tradicico in via di Rimaggio la strada che collega Lastra Assigna alla collina di Malmantino in uno sconto tra auto e moto il tifoso era proprio in moto si tratta di Lastraioli Davide Lastraioli sposato e padre di due figli era un grande tifoso viola nonché anche presidente del viola club del paese di Malmantile e naturalmente insomma ci stringiamo al cordoglio della famiglia anche perché insomma quando uno va a vedere una partita allo stadio naturalmente poi non si vorrebbe assistere a queste situazioni e a queste cose che possono succedere un tragico incidente parliamo però anche di calcio giocato chiudiamo la cronaca e parliamo di sport in questo caso lo facciamo con Fabio Ferri a cui do il benvenuto allora Fabio se si dovesse in tre minuti descrivere la partita di ieri della Fiorentina una partita che ha visto lo stop di fatto della squadra viola la squadra B messa in campo e però non dà risultati come quella diciamo la prima squadra non ha messa in campo in campionato beh una squadra B che non affronta la partita magari con il giusto ritmo perché alla Fiorentina nel primo tempo soprattutto è mancato ritmo è mancato forse un po' di brio là davanti e sicuramente i giocatori che Paolo Sosa aveva detto non li vedo sottovalutare questo impegno di Europa League che arriva immediatamente prima della gara con la Roma beh forse Paolo Sosa non l'aveva visto bene almeno in questo caso perché dobbiamo dirlo la Fiorentina ha sottovalutato l'avversario che è stato bravo a chiudersi sicuramente lasciare pochi spazi a stare quasi sempre dietro la linea della palla e poi a ripartire e a punire la Fiorentina con due occasioni che hanno dimostrato che comunque qualche incertezza difensiva ci può essere anche in una squadra organizzata come quella dei Viola che ha fatto forza proprio nel corso del campionato su questa solidità difensiva ma che adesso si ritrova in una situazione piuttosto complicata in Europa League e adesso appunto con questa situazione che si è venuta a creare nel gruppo I dell'Europa League davvero viene da pensare che la gara contro la Roma potrà essere un momento decisivo ancora di più perché è chiaro che se con la Roma dovesse andare così così beh allora dopo la sconfitta con Napoli questo passo falso in Europa piuttosto importante potrebbe veramente modificare il profilo della stagione dovrebbe essere un bel ridimensionamento ti voglio chiedere una cosa perché insomma si vede che Paolo Soda ha deciso a corrente alternata in campionato e in Europa League rispetto alla squadra che ha messo in campo poi negli ultimi minuti si è accorsi un po' ripare insomma sono entrati un po' quei personaggi vediamo in campionato Bernardeschi Ilicic insomma si è cercato un po' di riportare qualcosa effettivamente si è sbloccato con un gol e poi un gol rischiato anche in ultimo ieri sera però il Napoli insomma che è una vittoria diciamo perfettamente tonda in qualche modo ha dimostrato che magari mixando i giocatori in qualche modo si può arrivare a risultati migliori questa può essere una soluzione secondo te Paolo Sosa potrà in qualche modo interpretare nel prossimo tempo Sì può essere una soluzione Alessio però al di là del fatto che il Napoli appunto aveva in campo anche dei titolari come Caleon come Hallan e così via è evidente che la Fiorentina poteva battere la squadra polacca del Lec anche con quello schieramento là secondo me i valori in campo erano comunque a vantaggio della Fiorentina è mancato l'approccio secondo me è mancato proprio l'approccio perché i valori in campo vedevano la squadra B della Fiorentina comunque più forte dell'Ec Bosnia questo è il mio pensiero Certo naturalmente questo è un tema naturalmente da affrontare su cui dovrà riflettere anche Paolo Sosa allora intanto grazie a Fabio Ferri e naturalmente appuntamento agli aggiornamenti sportivi nel corso di Sport di questa sera su cui si farà il quadro naturalmente anche su questa Fiorentina di ieri ma anche sulle prospettive della partita importantissima di domenica alle 18 contro la Roma per quanto riguarda Studio TG è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento con le informazioni di Mezzogiorno e Mezzo torna lunedì buona serata Grazie a tutti